Una riflessione che ho fatto durante il lockdown, certamente la natura si riprende gli spazi, è chiaro, abbiamo visto i cinghiali nelle strade di città, abbiamo visto i delfini entrare quasi ai perimetri della laguna di Venezia, abbiamo visto delle immagini della natura che proprio, se vuoi, invade gli spazi umani. A me questo è piaciuto molto, perché vuol dire che questi tre mesi, questi tre, quattro mesi…